Vittoria casalinga di misura che garantisce due risultati su tre per la decisiva sfida di ritorno. Vince 2-1 il Martina davanti al pubblico del Torsi la spunta nella semifinale d'andata dei playoff nazionali di eccellenza contro la Ionica. Nuovo capitolo agonistico per la squadra di Massimo Pizzulli dopo la sconfitta nello spareggio secco contro il Barletta. Nuova occasione per centrare la tanto desiderata promozione in Serie D. Il primo minuto falconieri Delgado e Petitti nell'assortimento offensivo. Gulic resta in panchina a pitch e out per infortunio. In infermeria c'è anche il difensore Fruci. Bastano poco più di 5 minuti al Martina per passare in vantaggio al termine di un'azione orchestrata e bella da vedere. Petitti punta il diretto avversario serve una sfera invitante verso il centro che Tejo trasforma dal gol del 1-0 anche con la complicità di Romano. I siciliani pareggiano poco dopo sui sviluppi di un calcio di punizione con Cragnolini ma il direttore di gara annulla su segnalazione di fuorigioco dell'assistente l'acuto dell'aggancio per la Ionica. Arriva comunque prima della mezz'ora. L'azione parte da una rimessa laterale in attacco. Si conclude con la deviazione vincente sul secondo palo di Ortiz. 1-1 al Torsi. Non si fa intimorire in ogni caso l'undici pugliese che prova ad attaccare. Romano gioca bene in anticipo su Falconieri in aria. Martina vicino al nuovo sorpasso. Petitti batte la punizione. Tejo la tocca. Aprile fallisce il colpo da due passi clamorosamente. Parità dunque all'intervallo. Ospiti pericolosi in avvio di ripresa con la planche. Mira imprecisa. Dalla parte opposta Martino spinge in aria Petitti e calcio di rigore. Cerutti si prende la responsabilità di calciare dagli undici metri. Romano intuisce l'angolo e respinge. Falconieri poco dopo viene fermato dalla segnalazione dell'assistente. Fuori gioco in realtà molto dubbio. Vuole la vittoria della squadra di Pizzulli che rimette la freccia a metafrazione. Lo stesso Falconieri brucia in velocità. Lucero salta all'estremo dei siciliani e deposita nel sacco la sfera che vale il nuovo sorpasso. La Ionica si fa rivedere in avanti con Micoli. Mira troppo alta. Brivido per gli ospiti dalla parte opposta quando Giorgetti su traversone di Cappellari rischia un clamoroso autogol. Dentro ancora che su punizione impegna non molto per la verità. Romano finisce 2-1 per il Martina. Domenica prossima in pratica basterà non perdere in Sicilia per accedere alla doppia finale dei playoff nazionali. Grazie. 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 Grazie.